dicendo le ultime due cose. Io credo che gli interventi che ci sono stati sono stati molto accalorati perché insomma la situazione è drammatica e credo che però noi oggi abbiamo imparato una cosa fondamentale il rispetto per noi stessi e vedere tutte queste persone del mio stabilimento in piazza oggi è la cosa più bella che ci possa essere. Ne ringrazio anche ex colleghi che oggi sono venuti per far vedere che forse là dentro, a parte problemi, vicissitudini, all'ordine del giorno ci sono anche parecchi amici che oggi si guardano nelle palle dell'occhio e dicono ragazzi siamo qui tutti insieme io sono convinto che le istituzioni faranno tutto quello che è nel loro potere ma i protagonisti dobbiamo essere noi. Dobbiamo far capire a questa multinazionale che i lavoratori di Siena sono qui e non arreferranno di un passo. Grazie